Ciao a tutti ragazzi bentornati questo è Enlisted e io sono Fox Oggi volevo fare un breve tutorial su come cambiare l'apparenza dei personaggi E' semplicissimo bisogna andare su battaglia, andare sulla squadra interessata Tipo noi potremmo... il signor Giuseppe Andiamo a cambiargli l'aspetto, vediamo, vediamo, potremmo mettere l'elmetto Allora, adesso qua, anzi questo è elmetto, mi piace di più comunque Come si può cambiare la cosa? O avete i soldi e sganciate le monete Pam 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 Oppure con le carte che troverete in battaglia o comunque nel battle pass Che comunque ve le danno senza problemi E cambiamo Usare carte, usate le carte L'apparenza del personaggio, vabbè, è abbastanza giovane, mi sta simpatico Vediamo cosa possiamo mettergli, questo d'assalto Molto carino Usa E poi i pantaloni Pantaloncini Sembra che sta andando al male Questo mi sembra più... o questo? Questo mi sembra più adatto Queste sono quelle di base Dai li mettiamo a questo allora, va Ok E abbiamo fatto Abbiamo cambiato l'apparenza Del nostro personaggio Adesso proviamone un altro, tanto per farvi... vediamo questo qua Cosa gli vogliamo cambiare? L'elmetto Già preso Li mettiamo questo Oh no, questo è il metto A me piace Questo è il metto, però costa un po' di carte Vabbè, per farlo vedere Ho questo Questo è più bellino, mi sa Per vedere come rimane Sì Sì, bellino Usiamolo Ok Poi questo Abbroncio incazzato Non è... Questo sembra un divo di Hollywood Questo è D'Artagnan Questo non lo so Questo... Boh Vediamo, vediamo qualcuno di simpatico Questo sembra... Che assomiglia a questo? Ditemelo voi a chi assomiglia Mettiamo questo Ok Ok E adesso Anche a questo Gli metterei questo Quellino Ok E i pantal... Un pantaloncini Questi mi piacciono No, ma questi sono Quelli abbinati Secondo me Il colore Perché questi sono un po' troppo scuri Ma dai, sì, dai Mettiamoli questi Comunque Abbiamo capito? Adesso vi ho fatto vedere Senza dire nulla Commentando e basta Come cambia l'apparenza Del personaggio Bene Semplice Si può cambiare anche il nome Però Quello non... Se vogliamo cambiare il nome Stiamo cambiando troppo Secondo me Però Bene Quindi Senza mente È molto semplice Non c'è niente da dire In sostanza Grazie per avermi seguito Ci si becca Alla prossima Ciao